Ciao a tutti! Oggi sono qui per anticiparvi che in questi giorni pubblicherò alcuni video speciali. Segnateli sul calendario o attivate le notifiche dalla app di YouTube se usate dispositivi mobili, così non ne perdete nemmeno uno. Il mio intento è darvi degli spunti per trascorrere le feste con più benessere, soddisfazione, serenità interiore, piacere e per far partire il nuovo anno nel migliore dei modi. Per cominciare ieri ho pubblicato un vlog dal titolo Come volersi bene. Se non lo avete visto ve lo consiglio perché a Natale bisogna essere buoni, sì, ma prima di tutto con noi stessi e non è sempre facile, ma si può iniziare. Domenica 18 dicembre condividerò con voi il mio speciale menù di Natale, perfetto sia per il cenone della vigilia che per il pranzo di Natale, con tante ricette facili e veloci da cucinare e idee super sfiziose da gustare. Ovviamente tutte amiche della salute e della linea. Mercoledì 21 dicembre vi svelerò una tecnica speciale per avere soddisfazione e gioia nella vita. È qualcosa di utile davvero a cui io personalmente tengo molto per chiudere l'anno in bellezza e richiamare abbondanza e positività al nuovo anno che si avvicina. Il 25 dicembre, la mattina di Natale, voglio essere con voi online per scambiarci gli auguri, anche brevemente, ma non voglio mancare. Altro capitolo, non so se lo sapete, ma una delle mie passioni è l'astrologia, non l'oroscopo da bar, parlo di astrologia evolutiva, astrologia della salute, naturale ovviamente con il mio taglio. Insomma, mi interessano gli astri che ci indicano la direzione nel cammino della vita, come facevano le stelle per i navigatori. Così ho preparato le previsioni dell'anno 2017 per tutti i segni che pubblicherò come ebook disponibile in vendita dall'inizio del nuovo anno. Ma per voi amici di youtube, leggerò un'anteprima in diretta martedì 27 dicembre alle 20 e 30. Save the date. Per vederla basta collegarsi a youtube sulla pagina principale del mio canale, da computer, tablet o cellulare. E il giorno dopo, mercoledì 28, vi svelerò la mia routine di motivazione per il nuovo anno, quella che seguo per fare il bilancio dell'anno appena trascorso e per lanciarmi in quello nuovo ricaricata e piena di entusiasmo. Vi ho detto tutto? Ah sì, quasi dimenticavo. Il primo gennaio alle 12 vi aspetto ancora qui sul mio canale per scambiarci gli auguri di buon anno e iniziare insieme il 2017 con gioia e positività. Ecco, se avete domande scrivetele pure qui nei commenti. Vi ricordo anche che il modo più semplice per rimanere aggiornati in tempo reale sui miei nuovi video è iscriversi al canale con il solito click. A Natale siete tutti più buoni, così io pubblico tanti nuovi video e voi mettete tanti bei mi piace. E poi condividete questo video con i vostri amici e sui vostri social, così sarete anche voi portatori sani di salute, benessere e positività per tante persone. E noi ci vediamo sul canale, naturalmente. Ciao!